Pronti a partire con le nuove attività Parmalat Educational 2022-2023? Sono tutte attività ludico didattiche dedicate alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia. Ecco il professor Strampalat, mascotte del progetto Parmalat Educational. Sarà la nostra guida alla scoperta di tutti i segreti del latte e dei suoi derivati. È uno scienziato geniale, saggio e un po' bizzarro. Ma vediamo con lui tutte le novità che ci aspettano. Dal 10 novembre al 31 marzo partecipa con la tua classe al nuovo concorso didattico Avanzi con gusto, strampalat e le ricette antispreco. Un invito a capovolgere le abitudini alimentari per dare una seconda occasione agli avanzi in cucina. In palio, buoni acquisto per materiali di cancelleria. Vedi il regolamento completo su educational.parmalat.it slash gioca e vinci e iscrivi la tua classe. E avete dato un'occhiata alla ricchissima offerta di attività ludico didattiche completamente gratuite, tutte da svolgere in classe per approfondire i temi legati a buona alimentazione, sani stili di vita, sostenibilità e rispetto dell'ambiente e adatte a tutte le fasce d'età. Clicca su educational.parmalat.it slash parmalat per la scuola e iscrivi la tua classe. E non finisce qui. Seminari e webinar online dedicati a docenti e rappresentanti di classe e genitori. Educational in gocce, un supporto online con tante attività formative e laboratoriali legate ai temi tanto cari al professor strampalat. Visite guidate agli stabilimenti produttivi, studiate per completare il percorso didattico di Parmalat Educational. Visita il nuovissimo sito di Parmalat Educational per tutti i dettagli educational.parmalat.it e contatta Spazio a Colori www.spazioacolori.it Parmalat Educational a scuola in Friuli Venezia Giulia con te e Spazio a Colori direttamente nella tua classe.